Siamo con il dottor Antonio Tramonte, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Abbiamo attraverso varie interviste sviscerato, analizzato alcuni punti essenziali, alcuni argomenti che in caso di elezione il dottor Tramonte vorrebbe valorizzare. Abbiamo parlato di sanità, di lavoro, di scuola, ma ora è il momento dell'appello al voto. Immagini di avere dinanzi a sé ogni suo potenziale elettore, cosa si sente di dire per conquistare la fiducia dell'elettore, per far scrivere accanto al simbolo Lega il nome Tramonte? La risposta è molto semplice, il dottor Tramonte è fra la gente, è sempre stata fra la gente e continuerà ad essere fra la gente. Non è uno slogan, ma è uno stile di vita, che è ben diverso da uno slogan politico. E poi penso che ognuno di noi è bene che porti in politica quella che può essere la propria competenza. Penso di poter dire molto in ambito sanitario e non solo, ma da questo punto di vista credo che a differenza di molti che possono usare argomentazioni che a malapena conoscono, credo che possa rappresentare un valido aiuto, ausilio per tutti quelli che possono porre fiducia nei miei confronti. Ci tengo tanto a sottolineare, perché molte persone ormai sono sfiduciate anche dalla politica e quindi c'è una grande astensione. Io ci tengo a far comprendere che la politica non deve essere vista come un malaffare. La politica, così come le sigle partitiche, sono fatte da persone e quindi è molto importante scegliere la persona giusta. E' importante confrontarsi, è importantissimo esprimere quel voto in quella cabina e soprattutto non regalarla con una promessa, perché è stata fatta una promessa molto spesso fallace e falsa. Quindi occhio, andate a votare, attenzione a chi votate e ovviamente, torno a ripetere, chi sta dall'altra parte ci mette la faccia, però ovviamente quello che fa la differenza è la gente che ci vota e che ci dà. Ovviamente fiducia.